Magari se tutti si fossero alzati per l'inno di Mameli sarebbe stato meglio. È stata in fondo l'unica sbavatura ieri alla prima regionale dello stabile del Friuli Venezia Giulia, una prima che riconsegnando alla città anche il Rossetti ha in qualche modo completato il quadro dei teatri cittadini tornati ad aprire dopo il lockdown. E ieri definitivamente si è avuta la conferma della voglia da parte dei triestini di tornare a teatro. Lasciando da parte una giustificata paura, gli spettatori stanno dimostrando di essere disposti a perdere più di un'abitudine consolidata. Niente guardaroba, niente intervallo, forse neppure più il posto fisso. E anche l'obbligo di lasciarsi prendere la temperatura non viene visto come un intralcio, anche perché di questi tempi non si sa mai. Tuttavia ieri, fra gli addetti ai lavori, la soddisfazione per l'ottima riuscita dello spettacolo di apertura risultava seriamente compromessa dalle voci di una possibile stretta attesa per la prossima settimana che ridurrebbe la capienza massima consentita ad un terzo dei posti disponibili. Il che si tradurrebbe in un'ammazzata non da poco, che andrebbe a colpire un settore costretto a ricominciare più tardi degli altri e che si abbatterebbe in ultima analisi sui lavoratori dello spettacolo e le loro famiglie. Un dato questo che l'opinione pubblica sembra ancora far fatica ad assimilare, ma anche, va detto anche questo, sugli spettatori, ovvero su tutta quella gente che per curiosità, per interesse, per abitudine smette di essere tale e diventa pubblico e che dunque merita di essere in qualche modo tutelata non soltanto da un punto di vista, come dire, sanitario, ma anche da un punto di vista socio-intellettuale, impresa, ancorché affascinante, decisamente più complicata.